Ancora finaliste nazionali, siamo alla numero 38. Sono Lucia Traina, vengo da Palermo, rappresento la Sicilia, ho 20 anni. Allora, hai già fatto delle foto, hai già fatto delle sfilate, la tua personale differenza tra queste due attività? Facendo uno shooting mi trovo molto a mio agio, sono un po' nel mio mondo. Quando sono fotografata, invece con la sfilata un po' meno, perché comunque il primo impatto non si senti tanto a tuo agio. Cosa ci aspettiamo da questa finale nazionale? Non mi aspetto nulla, perché vengo qui per giocare, è tutto un gioco, non prendo la cosa sul serio tanto, perché poi alla fine non voglio comunque tornare a casa delusa, se non ho vinto nulla, tutto qui. Il nostro in bocca al lupo? Crepi.